È un progetto importante e ambizioso che vede di ristaurare e rimarcare quelle che sono le collaborazioni a livello istituzionale, quindi collaborazioni tra FIR e Università e Facoltà di Scienze Motorie. Diventa importante per noi quindi collegarci alle strutture istituzionali e cercare di creare sinergie che poi si possano sviluppare a livello pratico. Nello specifico l'inserimento di questi ragazzi all'interno del nostro movimento di sviluppo fa sì che si può portare avanti quello che è l'andamento di FIR.